Questa è la parte del perimetro esterno delle Terme di Caracalla, il lato più lungo, 338 metri, dove erano presenti le botteghe in cui i proprietari pagavano un affitto. E questo affitto serviva per ripagare le spese delle Terme che erano gratuiti. Queste serie di botteghe si trovavano sul lato dove c'era l'entrata principale delle Terme.